Salve a tutti gente, sono Dave e siamo tornati su Minecraft, siamo su Servercraft, sul nostro server Minecraft Vanilla E nulla, oggi sto facendo un po' di mining il più potente possibile E ho trovato una bella galleria, vostro sente proprio, cosa ci fa quel carbone lì, perché non l'ho raccolto Fino a 5 giorni fa c'era top che era online, che dovevo scappare per un motivo tecnico Mi ha detto che tornava, mi fa un po' accompagnare durante la registrazione Anche lui l'ho buttato in miniera, e nulla Oggi vi voglio mostrare un po' di materiali dalla miniera Lo so, è un video che tutti fanno, però nel senso non è che ha un interesse molto ampio Però ragazzi, ogni tanto ci vuole anche questo in Minecraft Perciò accontentatevi e spolliciate già da cura, senza che aspettiamo la fine del video, che ve lo dico io Io la sessione di mining l'ho iniziata da 5 minuti Mi l'ho portato anche l'altro piccolo incantato così facile Pensavo da Bery, perché sapevo di distruggerlo L'obiettivo di oggi è fare uno stack di diamanti Cosa molto probabile Però no, non credo di... no, non va bene, vabbè, ti lo sto scherzando ragazzi C'è uno stack di diamanti Porca mia, perché non mi carica il mondo? Non lo so Perché qui c'è un fiore? Perché qui non carica il mondo? Comunque no, volevo trovare tanti materiali oggi Basta, nient'altro Poi se riuscissi a trovare un mob scuro e non mi interessa di quali mob L'importante è trovarlo Sarei molto, molto contento Mi arrivano già i messaggi e nulla Nulla, diamanti ancora niente Però ho tolto una pozza di lava L'ho tolto un po' di lava E qui se ripulisco tutto intorno Posso sperare un po' di diamanti? E' tutto da vedere Ora, noi pensiamo soltanto a pulire Facciamoci il sciro intorno Sperando Non dico molto Un paio di diamanti, una razzina Niente Top, come sta andando la tua sessione di Minink? Top Top E tu vuole sapere come sta andando la tua sessione di Minink? Male Come male? Raccontaci cosa hai nell'inventario, dai Due frecce Quattordici bastoncini Tre selce Sei di terra Niente Un cavolo Ci mando sette patate Sette pesci E sei di carboni Ok, l'importante invece? L'importante invece è? L'importante non è niente Ma dov'è sta lava? Va beh, non c'è niente Voi ho dato un aiuto inutile Non trovo un cazzo Non trova Devo cambiarlo Trovo più cosa da una ragazza quando è minita Sì, non mo' sto cercando la lava Lascio cercare la lava in sante pace Ma non pensare alla lava, c'è il che materiale Che persone inutile veramente Una volta che trovo la lava posso trovare anche i diamanti Perché sono all'altezza dolici e potassi che sono vicini Mmm, davvero? No, cioè potassi no però Io invece sono talmente pieno di materiali Che adesso devo tornare a casa Ops Ops, sono caduto Ma qua già ci sono stati in passato Vabbè Eh sì gente, ho prestato la mia miniera a TopGamer E già si lamenta che è troppo pieno di materiali Come dobbiamo fare? TopGamer? Ti ho imprestato Ti ho prestato? Te l'ho prestata Perché la mia miniera Tu i materiali che adesso scavi Devi mettere nelle mie ceste Meno male che non sto trovando i diamanti allora Li troverai presto, non ti preoccupare Bene gente, stiamo risalendo dalla miniera Adesso facciamo un inventario veloce Di cosa abbiamo trovato Oh, puntualmente ogni volta che ricomincio a registrare Arriva un messaggio Eh, è come se lo sapessero dall'altra parte Allora TopGamer, vieni qua Seguimi Adesso No, questa cesta non va bene Perché C'è troppa roba dentro Però Posso fare così Poi dopo te le riprendi le cose Mostra a cosa hai trovato di importante nella miniera Dai Importante? Sì Questo Tipo questi Bravo Bravo Bella redstone Nulla di troppo importante Messa a confronto Ovviamente puoi vedere neanche tu nel video a confronto cosa c'è Cosa c'è a confronto Basta E questo è tutto Vabbè Se lo puoi riprendere Guarda Voglio essere generoso Voglio do pure la cesta Io Ho trovato un po' di cose in più Lo vedrai nel video Perché è così Almeno Ho una visualizzazione in più Bravo E ora la metto a cuocere le cose Anche se già c'avevo cose a cuocere nelle ceste Quindi Prendo altra esperienza Che bello Ebbene gente Dopo Questa sessione di mining Vediamo che TopGamer si è vergognato di se stesso Sta distruggendo casa Ha detto che se ne va via dal server E si porta via tutto Vero TopGamer Verissimo Quindi mi inizia a derubare le cose che c'è nella cesta E prendi prendi Non sto scherzando No te le lascio qua Non me lo Non mi offendo Vabbè E nulla Penso che anche per questo video È tutto Quanti pollici in su chiediamo? Dieci Dieci addirittura Secondo te ci arriviamo? Sì Va bene Dieci pollici in su Per avere il video della nuova casa di TopGamer Altrimenti non ve la mostro Fino a quando questo video Non raggiunge dieci pollici in su Va bene? Va bene E quindi Saluta Ciao a tutti Ciao